Buongiorno Rav, buongiorno a tutti, vorrei domandare, non ho capito, scusate, qual è lo scopo della creazione? Lo scopo della creazione è arrivare alla buona vita, ma buona vita? Buona! Così, in un modo al 100% proprio. Io ti dico seriamente, la forza superiore, quella che noi scopriamo, quello che i cabalisti hanno scoperto, è buono e benevolente, noi non lo sentiamo così, chiaramente, però quando noi arriviamo alla situazione attraverso il nostro cambiamento in noi, che possiamo sentire che veramente ci sta dando, allora scopriremo questo come la buona e miglior vita. Qual è la migliore vita? Proprio in tale modo che sentirai invece di questo mondo qualche cosa di pieno, qualche cosa di eterno, qualche cosa di illimitato, sia in quantità che in qualità, conoscenza, conseguimento e tutto.